Ciao bimbi, con l'arrivo delle belle giornate io so a cosa vi piacerebbe giocare. Provo ad indovinare con l'acqua. Beh, l'acqua piace a tutti, ai bambini ma anche agli adulti. Allora, prendiamo, facciamo dei giochini insieme con l'acqua. Prendiamo una bacinella, la riempiamo con un po' d'acqua, con un po' di tempera, se l'avete a casa, un po' di tempera blu o azzurra, la coloriamo. Giriamo con un pezzo di legnetto, in questo caso, ed ecco che l'acqua diventa di un bell'azzurro che sembra una piscina o addirittura il mare. Io ho già preparato una barchetta di carta. Proviamo a soffiare, ma possiamo realizzare una barchetta a vena, una giatterina, anche con semplice materiale che troviamo a casa nostra. Allora, ci occorrono degli stuzzicadenti, dei tappi di sughero, due spugnette da cucina. Allora, proviamo con la giatterina. Allora, tre tappi di sughero che io ho già incollato insieme. Mettiamo uno stuzzicadente in mezzo e poi mettiamo la parte esterna ruvida della spugnetta da cucina. Ed ecco la giatterina! Proviamo ad vedere se galleggia. Sì, che galleggia! Soffiamo! Adesso facciamo la barchetta a vela. Allora, per la barchetta a vela ci serve una carta da pacco oppure anche una stoffina. facciamo due triangolini. Li mettiamo poi insieme con uno stuzzicadente che io ho già messo qui dentro. Fermiamo con un pochino di scotch che io ho già preparato e poi andiamo a mettere metà della spugnetta. Infiliamo lo stuzzicadente qui dentro. Ed ecco la barchetta a vela! Proviamo a vedere se galleggia. Bimbi, con materiale semplice che abbiamo a casa possiamo fare tante baschette e tante giatterine. Buon divertimento! Ciao bimbi!